Tre giorni dopo l'operazione ero già tranquillamente con la mia amica a far festa, abbiamo mangiato porchetta, siamo andate a ballare tranquillamente. Donare il midollo osseo non fa male, lo dice chi l'ha fatto sulla sua pelle. A noi non costa nulla donare e con una singola giornata della nostra vita regaliamo magari una vita intera a una persona, regaliamo un genitore o un figlio a un genitore. Nella vigilia di Natale del 2009 mi è stata diagnosticata una leucemia acuta bifenotipo, è stato sicuramente un momento molto forte nella mia vita di grande cambiamento ma fortunatamente dopo tanti anni sono qua, sono vivo grazie alla scelta di qualcuno che ha deciso di donare il proprio midollo che fortunatamente è arrivato a me. Nella settimana nazionale per la donazione di midollo osseo i medici dell'ospedale di Cuneo spiegano come avviene il prelievo. Esistono delle malattie matologiche incurabili che possono essere invece curate col trapianto di cellule staminali midollari. La donazione avviene in due metodiche, una delle procedure prevede un'anestesia generale e un prelievo dalle ossa del bacino con un ricovero di due o tre giorni complessivi. Di solito non ha nessuna conseguenza fisica. La donazione di cellule staminali si può in realtà effettuare anche in un servizio trasfusionale senza la necessità di ricorrere all'anestesia totale. Viene utilizzato un farmaco in grado di aumentare numericamente le cellule staminali e favorirne il passaggio dall'osso al sangue periferico. C'è bisogno di te, non di un altro ma di te. Vieni, ci sarà un evento adesso, Machine Now, che parte in tutta Italia, in tantissime piazze. Venite tanti e numerosi. E diventare donatori è semplicissimo. Con un piccolo prelievo di sangue o di saliva ci si iscrive al registro dei potenziali donatori, dopodiché si rimane pronti e disponibili. L'unica cosa, 18-35 anni, bisogna essere giovani ed essere in buona salute.